Ben tornati in studio Ben tornati in studio e andiamo a conoscere quello che abbiamo lasciato un attimino fa che è Silvano Chesani, primo attista di salto in alto a 2.33 ma che emozione provi quando voli così in alto? Beh alla fine diciamo che non senti molto quando stacchi e quando arrivi sul materasso il bello è dopo quando capisci che hai fatto determinate cose come il record italiano è una sensazione bella perché viene dopo anni di sacrifici e numerosi momenti difficili e quindi è anche un momento di liberazione e poi è un momento di gioia con la società, il tecnico, gli amici è un insieme di emozioni che è difficile da spiegare Si scatenano dopo al lì per il non sparire di volare alto e la grasticciola non cada Esatto, soprattutto quello Quando atterri su materasso guardi fino alla sticella sperando che sia ancora su Il tuo primo salto te lo ricordi? Il mio primo salto penso quando avrò avuto 8-9 anni alle elementari quando si facevano i giochi della gioventù ancora penso sarà stato un metro non era fortissimo da bambino quindi non è importante quello che si fa da giovani ma è il lavoro che ci si mette l'impegno e che poi porterà si spera risultati importanti Il lavoro che fanno gli atleti a questo livello è anche un lavoro tecnologico scientifico abbiamo un filmato, l'abbiamo visto prima nelle immagini però abbiamo un filmato che c'è un curioso magari tu ci commenti e potresti aiutarci a capire il lavoro che fate anche con i vostri allenatori tecnici perché ogni millimetro, ogni passo, centimetro, ogni posizione del piede è assolutamente studiata intanto la regina se riesce a mandarci quelli immagini eccolo qua qua si vede il filmato del record di 2.31 dell'anno prima di Ancona nel 2012 e ci sono scritti i tempi di contatto dei piedi e i tempi di volo tra il passaggio tra il verso e il sinistro quindi erano quei numerini che vediamo che adesso non vediamo più ma che vedremo spero adesso lo rimandano in onda diciamo che è il pane quotidiano del mio allenatore, non tanto quello degli attetti ma più per l'allenatore ma sono telecamere apposta, fanno slow motion ci sono delle telecamere a 200-300 fotogrammi al secondo che usano la federazione per riprendere campionati italiani, mondiali o le gare internazionali e dopo i vari allenatori se interessati prendono i vari filmati per poter studiare adesso c'è il mio allenatore Giuliano Corradi che sta facendo uno studio su tutti i salti dei mondiali dell'anno scorso di Mosca, molto interessante perché ci sono dei valori molto diversi tra i vari atleti ecco vediamo adesso c'è questo spazio sulla destra, fra un po' vediamo muovere appunto dei numerini credo, eccoli qua, questi cosa sono i primi numerini? questo è il tempo di contatto del piede sinistro, del terzo ultimo poi il tempo di volo tra il terzo ultimo e il penultimo appoggio il tempo di contatto del destro, tempo di volo quindi il passaggio tra il destro e il sinistro e poi il tempo di contatto dello stacco ovviamente si può notare come la velocità tra il penultimo e l'ultimo passo sia molto inferiore rispetto agli altri e quello crea l'accelerazione per riuscire a imprimere maggior forza verticale e quindi trasformare l'energia orizzontale in verticale quindi questi sono proprio il tempo delle varie fasi e cosa fate? modificate cosa? diciamo che la ricerca è quella di velocizzare il passaggio tra gli appoggi quindi tra i tempi di volo e ridurre i tempi di contatto a terra infatti in questi mondiali di Mosca è stato bello vedere come il vincitore il secondo in realtà ha fatto 2,38, Druin, il canadese, ha un tempo di stacco e intorno ai 130 millisecondi che è molto basso e molto inferiore alla media che si aggira intorno ai 160 come si può vedere dal mio salto ma nella media mondiale siamo intorno su quei numeri lì beh grande facciamo un applauso perché è un gesto atletico Alessandro è alto quasi come te, 2 metri e 33 l'altezza tu che sei sempre altezza vabbè non sono lei voi pensate che stai esagerando immaginatevi a casa una porta, lo stipide di una porta, saltare sopra anche io non salto, non tocco mai l'asticella abbiamo un'altra bella ragazza qua Giulia Tessaro io faccio 100 ostacoli l'hai scelto o è venuto ad assai durante gli allenamenti? ma diciamo che da piccolina a me piaceva il lungo io ho cominciato a fare atletica perché mi piaceva saltare però poi hanno capito che nel lungo non avevo tutte queste grandi doti e quindi mi hanno detto ma perché non facciamo ostacoli e da lì quando ho 13 anni faccio ostacoli ed è stata anche una buona scelta è stata una buona scelta a me gli ostacoli piacciono, mi divertono mi diverte fare l'allenamento per gli ostacoli e gli ostacoli come ti prepari? quindi stai parlando del tuo allenamento come mi preparo? beh c'è un grosso periodo che si fa in palestra quest'anno molto più degli altri anni lo stai sottolineando? sì no c'è un grosso lavoro che si fa in palestra a inizio inverno praticamente e poi si va al campo, si trasforma, si corre nonostante i momenti di piaggio tipo adesso però abbiamo il pala indoor per fortuna abbiamo il pala indoor quindi possiamo andare ad allenarci hai già provato ad allenarci al pala indoor? sì, siamo andati un paio di volte e devo dire che quando fa freddo è l'ideale per fortuna e poi si comincia un po' a respirare l'aria delle gare quando si è dentro lì più di quando si lavora al campo oppure in palestra brava facciamo un attimo una pausa perché vorrei già cominciare a seguire un paio di biglietti alle piscine termali del Columbus di Avano Terme allora l'altra volta ha avuto molto successo tra i ragazzi c'è stato un po' male devo fare delle domande facili ma allo stesso tempo siccome siete tutti atleti pronti a reagire allora due biglietti alle prime due persone un maschio e una femmina che mi dicono attenzione come si chiama il presidente nazionale? Fidel! Alfio Gio Rosanna no, no il tuo nome il nome del presidente? Rosanna Martista no, nazionale allora lui l'ha detto microfono lui l'ha detto dai Alfio Gio bravo vieni qua intanto un biglietto facciamo un applauso a lui perché l'ha detto vieni vieni con noi dovevi portarti il microfono perché come ti intervistiamo? vai ciao allora come ti chiami? mi chiamo Stefano Zaniratto quindi un po' in mezzo faccio atletica da tre anni ormai e la mia specialità quest'anno saranno i 5.000-10.000 metri e quindi? prima facevi altro? prima facevi 3.000 perché sono passato di categorie dalla categoria juniores si fanno i 5.000-10.000 metri ecco qua tra ragazzi siete come 7 divisi come categorie come età eh siamo quasi tutti della categoria allievi juniores qualcuno della categoria cadetti eh insomma comunque prendete insomma dai 14 ai 16 a 7 anni giusto presidente già una volta ha fatto un errore anni fa i campionati italiani ad Abano ma insomma bene allora un applauso a lui che ha vinto e io porto il microfono se mi permettete siccome decidiamo noi ne lo diamo anche a lei perché ha detto Rosanna Martini che però chissà ragazzi un domani vero ossessore tutto può succedere essere presidente ma cioè lavorresti nel senso potrebbe essere anche presidente nazionale una donna una donna tu ti chiami allora? io sono Tiberio Emma e tu cosa fai? io non faccio non ho una specialità non ancora stai ancora scegliendo cosa ti piacerebbe? a me piacerebbe fare ostacoli o lungo bene come l'arma sì bene vedi che sono questi modelli brava un applauso anche a lei allora adesso posso avere l'onore di salutare Lara Rocco che invece di metri con gli ostacoli ne faceva 400 esattamente che è una cosa penso io massacrante c'è un giro di pista con gli ostacoli in realtà è meno massacrante dei 400 metri piani addirittura beh sì perché teoricamente c'è un ritmo una ritmica da tenere tra l'un ostacolo e l'altro quindi ti rendi conto che sei arrivato alla fine negli ultimi 40 metri che sei che sei conto esatto però sì è un misto tra capacità tecniche ritmiche e lattacide diciamo tu come ci sei arrivata a questa io in realtà volevo fare i 100 io sono andata in campo mi ricordo all'epoca l'Arcella nel lontano non si dice e volevo fare i 100 metri e l'attuale allenatore mi ha guardato perché all'epoca avevo quasi 18 anni avrà pensato che cavolo vuoi fare però io ero proprio convinta che volevo fare i 100 metri così ho iniziato dopo strada facendo ho fatto un po' come come Giulia ci siamo resi conto che i 100 mi sono resa conto che i 100 non erano proprio la mia specialità sono passata a fare i 200 poi i 400 poi per necessità tecniche e gli ostacoli ho iniziato a giocarci un pochino e da lì è nata un po' la passione per i 400 metri con ostacoli ecco si dice nel tuo ambiente che sei un po' rigorosa immagino parte da un rigore per te stessa ma poi come che rapporto hai con i tuoi ragazzi a me piace mi piacciono le persone che hanno voglia di lavorare però diciamo che l'ambiente è un po' abbastanza goliardico nel senso che nei momenti di recupero si ride si scherza annuita mi raccomando ragazzi chi è che ha come allenatrice come istruttrice come si dice allenatore c'è qualcuno prendi il microfono raccontaci qualcosa di Lara quello giusto no lei lui la davanti quello giusto vai no sto scherzando com'è Lara rimani pure là che ti inquadriamo là senza poi parlare al microfono tanto nome come ti chiami? allora sono Gheorghi e Costanti infatti lavoro con Lara da ormai due anni da quando ho cominciato con le fiamme oro posso dire che è una brava allenatrice è divertente è tosta perché vuole che lavoriamo veramente tanto ma a noi ci va bene perché vogliamo risultati e cos'altro posso dire? ti trovi bene insomma si lo merita un altro applauso Lara? ne merita anche due anche due non c'è uno eh Sergio sottolineo che i ragazzi dicono lavoro con lei cioè questo senso tu sei stato anche un atleta di salto in alto anche tu? sì sì stiamo salto in alto quanto facevi? no tanto così? un po' meno 2.22 eh insomma 2.22 scusate non è poco eh com'è che si lavora con i ragazzi? ma il lavoro è un modo di dire i ragazzi vengono da noi con impegno ma soprattutto con la voglia di divertirsi è chiaro che eh sono si sono appassionati all'atletica per la passione che che gli allenatori sono capaci di trasmettere questo è un valore che loro hanno dei quali noi andiamo orgogliosi perché riescono a trasmettere le emozioni eh che hanno vissuto loro nei campi di gara e nei risultati che hanno stati capaci di ottenere però per me questo è il valore è un riconoscimento di questa mi fa piacere passaggio di generazione chiamiamola così anche se insomma sono ragazzi giovani sono molto vicini ai loro atleti e ai loro allievi non è che ci sono tantissimi anni Federico conosciamo un altro tecnico del Fiammeone che è un tecnico ma anche un collega nostro perché lui si occupa anche della comunicazione dell'ufficio stampa quindi quello che esce di comunicare a livello nazionale soprattutto quindi lui deve farsi tutte le gare avere tutte le informazioni o anche comunque siamo uno staff in cui c'è anche un bello staff sei aiutato tu hai fatto anche degli studi sei laureato in scienza comunicazione ti occupi di giornalismo collaboro anche con la rivista ufficiale della polizia di stato il mensile polizia moderna di tanto in tanto con il mattino di Padova diciamo che però hai amicizia anche all'interno della nostra emittente vabbè sì questo sì tutto aiuta ragazzi nella vita amicizia in senso positivo buono in senso affettivo diciamo così sì 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 è vero però diciamo che comunque tutto è partito dall'atletica leggera probabilmente tu sei piemontese di Torino proprio io allora ho i miei originari diciamo non di Torino sono andato anche nelle Marche tra l'altro però ho vissuto quasi sempre a Torino tranne una breve parentesi in cui ho vissuto anche a Catania perché mi sono allenato con l'ex responsabile della velocità Filippo Di Mulo per più di due anni però diciamo che Torino Torino è nel cuore diciamo la scelta di Padova è stata una scelta dettata dall'amore e dalla passione per l'atletica leggera quindi sei venuto perché c'era la sede dell'esame oro esatto c'era la sede dell'esame oro c'era la possibilità di continuare a rimanere nell'ambiente dell'atletica leggera facendo diciamo quello che mi è sempre piaciuto fare quindi allenare adesso prima praticare l'atletica leggera e poi comunque anche oltre che questo c'è stata questa possibilità anche di occuparmi di comunicazione quindi diciamo che ho chiuso il cerchio e ho ottenuto un po' un mix di cose buone che mi piaceva fare come è che devi raccontare quello che fanno i tuoi amici colleghi atleti eh beh allora perché tu devi essere molto se prendete le prime notizie dei risultati sei quasi in tempo reale insomma quindi adesso anche su spinta e sulle citazione comunque di Sergio che è sempre molto tecnologico adesso comunque abbiamo una comunicazione molto molto interattiva utilizziamo i canali di Facebook Twitter tra l'altro siamo in buona compagnia perché anche l'assessore Umberto Zampieri ogni tanto ci tagga nelle foto conferenze stampa piuttosto che argomenti interessanti quindi diciamo che cerchiamo di mobilitare il più possibile l'attenzione questa mattina è stato più veloce tu dell'assessore poi ne parleremo sì e infatti subito hai pubblicato la foto della stampa e infatti subito mi ha detto aspetta che tocca prima me abbiamo presentato a Padova il trofeo Luxardo ne parleremo alla fine Coppa del Mondo diciamo la squadra che si tratterà a Padova nel weekend quindi sì scherziamo eravate presenti anche voi come Fiamme Oro c'era anche Sergio allora abbiamo un po' terminato il giro io vorrei abbiamo parlato del centro giovanile e vorrei conoscere qualcuno dei nostri ragazzi io vorrei prima mandare il video della scuola proprio del centro giovanile delle Fiamme Oro vediamo se riusciamo a avere le immagini così vediamo l'ambiente dove i ragazzi si allenano se la regia ce l'ha perfetto che è un po' che è un po' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.